Signori e signori, bentornati, benvenuti, non so se sto registrando, si sto registrando, si sto registrando, sto sempre registrando, ci sto provando, siamo arrivati nell'ultimo episodio della caccia del tesoro, siamo alla decima puntata del decimo episodio, questa casa splende come una stella, raggiungila con una maschile car, super bella, allora, secondo me, senza saper né leggere né scrivere, ci serve una classica maschile car, tra poco inizierà la stagione nuova, quindi interessante, ci servirà una maschile car, un classic maschile car, ok, quindi visualizza tutto, selezioniamo classiche maschile car, maschile car classiche, penso che dobbiamo sceglierne una a caso, una muzzo, non sbagli mai con la camaro, ragazzi, con la camaro, non si sbaglia, quanto costa scusa? 111.000, l'ho letto bene? 11.000, anche se probabilmente costa 111.000, manco lo sappiamo, eh, soldi non ci mancano, ok, garage, un potenziamento, io farei una messa a punto, giusto per S2, S2, 926, interessante, un miliardo di kilowatt, c'è tutto il countdown, la stagione è cambiata tra 5 minuti, ho sbagliato, scarica install, lo devo pagare ovviamente, costo? 138.000, interessante, interessante, so già quel salto, immagino perché dobbiamo raggiungere, c'è il salto più alto del gioco qui e quindi immagino che sia quello che penso, immagino quindi che sia, che sia, che sia, appena, appena, quello sto a scogliera, che parti dal faro? 12, quanto è un W1000? Penso sia, penso sia questo, lo sapete che secondo me è questo? Perché dice di raggiungerlo, una Muscle Car, dall'altra parte c'è un'isola mi sembra, vabbè, noi lo facciamo, prima cosa la rileggiamo, questa casa, questa casa splende come una stella, raggiungerlo come una Muscle Car, è super bella, anche se devo dire che qua, non so, forse c'è una casa e manco lo so, via via, è un Lambo, via via, è un Lambo, 5.210, mostro, 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 ci vado forte, mi sa che giro forte a Torino, ecco la casa, ecco la casa, yes, abbiamo risolto già l'indovinello, un signor, un signor, un signor, un signor, mettiamolo lì, mettiamolo lì, dai, però, però, mi è venuto o scusatemi? Mi è venuto o scusatemi? Non dubbia, non dubbia, c'è una casa, c'è una casa qua, scusatemi eh, ma se l'indovinello invece intendesse un'altra roba, un'altra roba, perché adesso non lo so più, però lo raggiungerò come una Muscle Car super bella, e se io volessi andare qui e saltare, non penso che sia un problema, per saltare, per saltare, una roba che neanche si guida, un canna, un veduca, quindi forse ce la farò, forse no, raggiungiamo la casetta super bella, ho mancata, però la mia idea ci sta, perché lì c'è una casetta, non ho visto se c'è altro, non mi sembra che si possa salire, però, però poi ho in mente, però poi ho in mente, devo raggiungere appunto quella casa lì, e l'altro ho avuto la foresta dei vecchi rarici, vabbè, non ci interessa in questo momento, per due minuti, inizierà la stagione, ottimo, come la stagione di Fortnite praticamente, se io salto da lì, invece che da lì, salto da qui, niente, sono ritardato, non ce la farò mai, se io la prendessi, sono sicuro che devo andare lì eh, sono sicuro, sono sicuro, l'unica grana è così facile riuscire a raggiungere, sapete che c'è, guardate eh, guardate eh, secondo me, secondo me, mi fa terrare lo stesso sulla sponda, infatti lo sapevo, possibile che quella casa lì non è raggiungibile? No, è possibile, lì c'è un salto, sembra stavano, non riesco a farlo, ok, il diritto perdete per quell'albero, un minuto e 38, 180 all'ora eh, oh, oh, fermati, fermati, voglio morire, voglio morire, voglio morire, vuoi morire perché non riesco a salire, sono arrivato forse un po' troppo forte, però la tecnica ci sta, qua c'è il salto, lì c'è il salto, non è 170 all'ora, mi sembra una velocità adatta, vai, 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 vai se mi attraversa uno adesso eh, mi sparo, se spare no, eccolo, 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 dove, dove, non c'è, eccolo, eccolo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sentivo, permesso, via tutto sto schifo, eccolo, 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 sì, 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 signale ce l'abbiamo fatta, voglio anche lui, voglio anche lui, dappertutto guardiamo guardiamo la stagione stagione horizon costo costo ammira il sole che sono gioia di supporto ma solo per un istante perché poi dovete stare so questo re della collina poi così magari li faremo in altri video sarebbero molto molto interessanti autunno guarda che bella il signore vi saluto e vi ringrazio grazie per aver servito questa piccola serie sports horizon per appunto sì 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 adesso devo fare il kraken perdonami questo qualcosa obiettivo stagionale 274 orari giudiamo il prossimo video ci vediamo sulle varie corse kraken e non kraken e hola a tutti ad abox